Ci è costato molto impegno perché non è una cosa semplice da organizzare, soprattutto perché questo astronauta vola a destra e a sinistra, adesso per esempio è a Houston o da quelle parti, tornerà qui e la stessa notte parte per Houston di nuovo. Quindi dobbiamo proprio avere anche noi una finestra di lancio. Quando noi abbiamo avuto questa occasione attraverso il nostro amico Marco Molina di avere questo ospite ci siamo subito entusiasmati e l'entusiasmo è aumentato man mano che passava il tempo e i preparativi per questo evento. Lo abbiamo fatto con tutte le nostre forze, con l'aiuto anche dell'amministrazione che ha messo a disposizione la Cavallerizza, quindi un quadro molto adatto secondo me a questo incontro. Per noi è un grandissimo onore averlo qui, una grandissima soddisfazione di poter presentare ai nostri concittadini questo grande personaggio che risponderà anche perché è una persona molto affabile, molto alla mano. Risponderà non soltanto con dati tecnici ma anche con qualche aneddoto in maniera molto piacevole alla sua esperienza. Sei mesi in orbita sono tanti.